Benvenuti signori in questo nuovo video uncut, una tipologia di format che non portavo da un po' di tempo che va sempre nella playlist degli speciali, ormai lo sapete che è tornata anche per ragioni logistiche, sto editando video teoria e non ho tempo di editare altri video perché sto studiando per degli esami e quest'oggi io volevo andare a commentare il dibattito che c'è stato riguardo alla mancanza di determinati Pokémon nel Pokédex nazionale ma volevo commentarlo per come è stato condotto da ambedue le fazioni senza andare a mischiarmi in ciò che sia giusto e ciò che sia sbagliato conoscete la mia opinione, l'ho espressa nel video di domenica, ve lo lascio comunque nelle schede la community Pokémon ha assistito a un dibattito che credo sia senza precedenti perché la news è senza precedenti di fondo e però io nel video di domenica ho detto una cosa in particolare ho detto ragioniamo l'importante nei dibattiti, soprattutto quando è in arrivo un cambiamento del genere è ragionare che non vuol dire avere la mia opinione, sia chiaro nei commenti di quel video tanti mi hanno fornito opinioni contrastanti alla mia supportate logicamente e altrettanti hanno invece dato ragione al video insultando, dando opinioni completamente insensate e la cosa mi fa sorridere perché io sto preparando e ce l'ho qui di fianco, ve l'ho portato un esame che implica la lettura di un noto testo filosofico sapete io faccio filosofia c'è chi vi parla di Pokémon e crede di dire le cose come stanno parlando di marketing secondo me il mondo non si capisce con il marketing con il marketing tu non capisci le persone il mondo si capisce con la filosofia è una frase da Radical Chic ma la penso così e sto preparando, vi dicevo, un esame su Cante proprio ieri sul regionale mi sono imbattuto in questo passaggio che non avevo mai letto e che mi ha fatto pensare proprio a questo dibattito si parla qui delle lo sto leggendo, ce l'ho qui davanti, è proprio qui si parla qui delle tre massime che un intelletto di una persona che si definisce uomo dovrebbe possedere che sono pensare da sé pensare mettendosi al posto di ciascun altro e pensare sempre in accordo con se stessi ora, Kant vive in un'epoca in cui si è molto positivi sull'essere umano e quindi lui le dà per scontate negli uomini noi siamo abituati invece a non vederle a sapere che le persone non ragionano prevalentemente così e se Kant definiva persone prive di questo tipo di massime delle non persone io, Giovanni Cattaneo, le definisco analfabeti funzionali la community Pokémon in una sua parte che non comprende i miei veri fan è composta da analfabeti funzionali e attenzione voglio che sia chiaro gli analfabeti funzionali che ho visto all'interno della community Pokémon li ho registrati da ambe due le fazioni non è che chi è andato contro la mia tesi lo sto reputando analfabeta funzionale anzi con molti di quelli che hanno fornito ragioni contro di me si è sviluppato un dialogo per cui alla fine siamo arrivati a discutere di come il sistema abbia imposto tutto ciò di come il sistema delle tempistiche degli investimenti e del capitalismo diciamocelo ha portato Pokémon a dover fare delle scelte anche dolorose io ho messo in luce il coraggio nel voler tagliare il passato per incentivare il futuro si può essere d'accordo o meno con tutto ciò probabilmente dipende dalle visioni che si hanno del brand ma non è questo il punto vi ho detto non voglio stare qui a discutere di chi ha ragione e di chi non ha ragione è sempre un po' la battaglia tra tradizione e innovazione tanto per rimanere in tema spade scudo dicevo analfabetismo funzionale da ambe due le parti perché l'analfabetismo funzionale è sia non essere in grado di capire quello che ti viene detto perché io penso che se dopo 10 minuti e 40 di ragionamenti tutt'altro che offensivi al massimo non condivisibili ma ragionamenti che credo fossero in primis un bel messaggio per la community un invito a usare la testa se dopo tutto quello ciò che hai da scrivere è coglione credo tu sia un analfabeto funzionale quello è un tipo di analfabetismo funzionale che ho visto ma ce n'è un altro secondo me che ho riscontrato ed è quello di chi non è in grado ed è una cosa che ho detto nel video di domenica sono contento o no ma ingalluzzito dal fatto di aver avuto ragione è il non sapersi mettere al posto degli altri Kant ce l'ho sempre qui il non sapersi mettere al posto degli altri cioè il non capire che non bisogna giudicare gli avvenimenti per le proprie disposizioni soggettive soggettive sì è un kat quindi avrete visto sto strafalciane non è così che si giudica non è così che una persona dotata di raziocinio giudica il giudizio deve essere il più possibile comprensivo delle opinioni di tutti ok l'ho espressa male perché balbetto e faccio cagare dopo 5 anni di video non so stare davanti in una telecamera ma spero che si sia capito il concetto e e non ne siamo capaci cioè non siamo capaci da ambedue le fazioni non siamo stati capaci parlo in generale poi sapete che non è così di costruire un dibattito sulle basi di un interesse comune c'è gente io non faccio nomi perché su certe persone sono arrivato alla conclusione che o sono analfabeti funzionali oppure cercano visibilità quindi non farò nomi ci sono persone che hanno fornito giudizi a moralmente sbagliati andando ad insultare e b sulla base esclusivamente e senza pudore della propria esperienza cioè senza tenere in considerazione che un'altra persona con un'altra disposizione potrebbe avere tutt'altro interesse mi sto riferendo alla parte competitiva che ha gioito ovviamente della rimozione di questi pokemon seppur in realtà non sia così scontato rimuovere dei pokemon riduce le possibilità riduce l'inventiva del giocatore competitivo ma non è una questione che voglio trattare la gioia dei giocatori competitivi che sono contenti che siano stati rimossi i pokemon perché? perché odiano i giocatori del player versus environment perché odiano chi invece magari ha un modo di intendere pokemon più vicino alla trama questo è il cancro questo è il cancro della community pokemon il non saper capire che ci sono persone che apprezzano altri determinati punti del brand e conseguentemente in virtù di cambiamenti non saper capire che un giudizio completo deve cercare deve cercare di comprendere le opinioni di tutti io non dico di aver fornito un giudizio corretto perché non credo esistano giudizi corretti ma un giudizio che nelle intenzioni voleva essere il più comprensivo di tutti gli interessi però mi sono accorto che che non tutti lo fanno mi sono accorto che ci sono content creator addirittura che preferiscono non curarsi di quello che gli altri possono pensare io lo dirò sempre per me il content creator ha una un dovere civile quasi un influencer parliamo di influencer l'influencer non è solo un lavoro è una condizione io in questo momento sono davanti a una telecamera e in questo video lo starete vedendo in 1500 io ho il potere visto che mi trovo in una posizione privilegiata che mi rappresenta al di là dello schermo di influenzarmi soprattutto di influenzare magari quei elementi un po' più fragili un po' più immatura quindi è una condizione ed è una determinata condizione come dice il famoso detto deriva una responsabilità da grandi poteri derivano grandi responsabilità ma non tutti se la prendono questa responsabilità non tutti la capiscono io sono rimasto un po' stupito così da alcuni atteggiamenti di questa community questa è una molletta ci sto giocando senza una ragione infatti adesso la lanciamo cioè sono rimasto stupito dall'irrazionalità di certe persone content creator e fan e utenti e utenti ciò nonostante sul mio canale come ho scritto in community credo ci si trovi in un'isola benedetta da dio non l'unica non l'unica per carità e e chiaramente ogni community ha i suoi nei io non negherò mai che tra i miei fan ci possa essere anche qualche pirla che non capisce niente di quello che dico è possibilissimo difficile che io me ne accorga per dire analfabeti funzionali non sono solo questi analfabeto funzionale è anche chi per fortuna queste persone si sono ridotte è anche chi ai tempi veniva sotto le mie teorie poca a dire no non è così perché sai sai doni ha detto quest'altro quello è analfabetismo funzionale perché è il non saper pensare da sé ok che è poi la fonte dell'indignazione no indignarsi cioè seguire la corrente di pensieri negativi senza affermarsi a pensare ma sai magari in realtà però potremmo vederci anche qualcos'altro qua indignazione possiamo ribaltare dalla community poi con la politica in tre secondi ma non lo farò l'indignazione il non saper pensare da sé il non saper mettersi al posto degli altri cioè il valutare le cose secondo la propria esperienza questo è scientificamente scientificamente sì scientificamente la definizione di analfabetismo funzionale il non riuscire a sviluppare una propria opinione lo sviluppare sviluppare esagerato l'esternare pensieri sulla base solo di esperienze soggettive mai considerando ciò che ne consegue a livello più generale e il non avere un'opinione coerente con se stessi cioè il mutare opinione e questo questo è incredibile pensate a come tutti erano d'accordo con spada e scudo tutti amavano spada e scudo è bastato che gli si toccasse il pokemon preferito che hanno cambiato opinione non è forse riassunta delle tre regole di Kant il seguire l'indignazione il cambiare completamente opinione per il semplice fatto che una contingenza ti ha fatto svegliare col piede sbagliato e l'avere un pensiero completamente discostato da quello che pensavi un attimo prima il pensiero è evoluzione ma l'evoluzione non è in un secondo sta in un processo un po' più lungo analfabetismo funzionale tanto analfabetismo funzionale fortunatamente non solo analfabetismo funzionale perché come ho scritto in community noi siamo una community scusatemi la ripetizione che seppur con i suoi nei perché tutte le community hanno dei nei è in grado di ragionare anche fornendo opinioni controcorrente rispetto al mio questa è una cosa per cui io proverò sommamente rispetto per quelli che mi seguono il fatto di riuscire ad andare contro quello che dico con opinioni razionali magari aiutandomi anche a sviluppare un pensiero più completo perché io è chiaro vi risponderò sempre cercando di far valere le mie idee sempre è una cosa penso normale però sempre con rispetto sempre con rispetto di quello che gli altri possono pensare cercando di integrare la mia idea con le osservazioni che mi sono state fatte l'esempio che ho fatto a molti nei commenti della logica dei compiti della matematica cioè il fatto che il dire ok però potevate prendervi più tempo è una cosa che funziona con i compiti di matematica ti prendi più tempo per farli meglio un'azienda un brand che è inserita in un sistema che richiede determinate cose che fornisce introiti che poi saranno ironicamente ciò che ti servirà per creare nuovi giochi non può permetterselo questa cosa l'ho sviluppata grazie ai vostri commenti e l'incontro tra i pensieri razionali crea questo crea il fatto che alla fine da due pensieri completamente opposti se la discussione è civile e razionale si arriva a discutere di tematiche molto più profonde si arriva alla radice del problema questa è la base della filosofia poi venitemi a dire che il mondo si capisce parlando di marketing e non parlando di filosofia spoiler la filosofia ragiona anche sul marketing anzi negli ultimi 200 anni di storia della filosofia si è parlato più di capitalismo e di marketing che di altro questo per far capire che chi sostiene di capire il mondo con il marketing non capisce niente lo sta giudicando come invece dice di non fare lo sta giudicando sta giudicando gli altri sta giudicando i gusti degli altri senza capirne le reali ragioni quando le persone capiscono le ragioni di un altro allora lì capiscono quella persona finché ragionerete soggettivamente come hanno fatto in tanti all'interno di questo dibattito non capirete niente giudicherete e basta sarete solo analfabeti funzionali che vi piaccia o no che ve lo si dica chiaramente fortunatamente in questi casi abbiamo degli studi abbiamo la scienza non serve la filosofia che può essere contestata più volte buona io ho parlato molto vanvera non so nemmeno sinceramente se ho detto tutto quello che dovevo dire probabilmente mi sono dimenticato qualcosa questo era il mio pensiero sulla questione questo era il mio pensiero sul dibattito questo è anche un po' il messaggio se vogliamo che avevo lasciato forse un po' in secondo piano nel video di domenica e che comunque io sono sempre convinto che difficilmente raggiungerà chi deve raggiungere perché chi è analfabeto funzionale un video di 16 minuti perché ho il counter qui 17 probabilmente 18 forse non se lo guarda ma il messaggio è questo non siate analfabeti funzionali mettete in pratica le regole di Kant imparate a pensare da voi imparate a pensare cercando di essere universali è una cosa che si sviluppa col tempo ed è una cosa che richiede impegno ed è una cosa che non deve per forza venire giusta ma è l'atteggiamento giusto e se applicate queste due cose imparerete anche ad avere un'opinione coerente con voi stessi io non credo che si abbia un'opinione che rappresenti noi stessi credo che si abbia un'opinione coerente con quello che si dice nel corso della vita ma questi sono altri discorsi io spero che questo video vi sia piaciuto nonostante tutto spero di non essermi inceppato troppo se è così scusatemi sto studiando e questo video è un video a cat mi invito a lasciare ovviamente un mi piace se vi è piaciuto il video ci mancherebbe altro un'iscrizione se non siete ancora iscritti tra l'altro saluto tutti i nuovi iscritti che si sono iscritti recentemente probabilmente anche vedendo il mio video di domenica sono contento che vi siate iscritti con quel video perché avete visto forse la mia parte migliore e quella di cui vado più fiero sotto molti aspetti buona vi saluto like iscrizione commento qui sotto con la vostra opinione anche in questo video è sempre importante anche se avete qualcosa da dire in riguardo a quello che ho detto oggi lo sapete ormai non c'è bisogno che ve lo dico i commenti critici sono ben accetti gli altri li sopportiamo come ho detto in community come se fosse un ton cancretto buona social campanella noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video che potrebbe essere la teoria di pokemon spada e pokemon scudo che è su questo pc voi non la vedete ma sta procedendo sta procedendo bene e la vedrete spero presto ciao ragazzi